Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Il terzo c'è theta fine, ma quierele pie cha. La storia è 100% noi, l'0%. E L'0%ol per l'0%ol per che s'you. no video bispo che ne ti scrive che video montaggio non c'era l'opinione non c'era il cuore ma non c'era il cuore non c'era il cuore non vedo ha il cuore che 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 Bro, 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 bro Que cojones, bro Que salen de dia Me reviven, me reviven, chill Me reviven, me reviven Bro, salen de dia, bro Bro, donde, donde estás? Me reviven 100% Pasare un clip Bro Bro Alo, loklo mamaki, que c'a s*****o,小 XB vice My pokemon you made Ossraday Ossraday What location was Roast now jugada hit Ah, 3 deditas azules, è il casco nuovo, ma vuole il coso per riparare la armatura. Pure il yunque. Ese sta 20 deditas naranjas. No, non voglio il yunque. Tu non si riparo con un yunque normal? Carajo. Si, tarado, però... Che, papi, come vuole il yunque normal? Come vuole il yunque normal? Si tutto ha riparato e vuole qui per ripararlo, no? What the fuck? Que necessita il yunque normal? Hermano, me voy a morir, no me dejava... Escuchen, escuchen, chicos. Escuchen. Eccensen mi TP. Ahorita entro y me... Me tp'an, sino ok, porque creo que voy a popiar. Ok, zack. Uncparablock, uncparablock, uncparablock. So, zack. Die 2 sekunden, die man hier verliert, scheiß drauf, digga. So, der ist jetzt wichtig. Hab'ich. Schnell hoch. Und... Einmal hier. Oh! Ok, ok chat, ok! Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Kann man den abbauen? Ja, den kannst du abbauen. Mit Pick-X? Jo. Bist du sicher? Eigentlich schon, aber kann sein... Boah, der dauert übelst lange. Ja. Oh mein Gott, ich hab... Mach' ich das? Nee, komm, scheiß ich drauf, oder? Ich hab's up- Ich hab's up there. Ich hab's up there. Ich hab's up there... Ich hab's up there! No! I just saw the name... Are we too late? Are we too fucking late? we 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 need to go we need to go we need to go now there's a new no get out now go through the portal go through the portal get out what's happening ahhhh where did the socks go just now i don't know um go through the portal go through the portal get out why what's happening oh my god get out go 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 what the fuck no 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 see you guys tomorrow que pedo, que pedo? si? a mi, que a mi! dagu te pedo, te pedo, te pedo eee no no, espera, espera, espera vamos a ver que es ahhh estoy con anex donde estas? no se No, no. Stai investigando questo. Eh, hijo de puta! Aiuto, il equipo! Va a morire. A mio me trolleo la puta nutria! Nutria de mierda asquerosa! Cosa? Abajo, abajo! No se, hanno fatto un cambio o algo o te stanno seguendo a ti, era muy raro. Erano Immortales. Silvi è otaku. Ok. Listo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Esti... Stai in сил? No, no è chill. No, no è chill. No speri, no speri. Ci sono una quantità di phantoms che non ti potrei immaginara. Come sali, Ford? No, mamadame 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 06 stanno dicendo Vabbè 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 ma come una cosa d'accident, i miei 3 spazzano non so ne znavo di questo no, di Uzi e io e io lo uso e io cosa so che è no, di mio ok, 15 quindi il numero ma questo è molto largo ok, 6 voglio vedere il cuore, Juan? tolare diciamo il numero, Juan 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15